Allora, adesso se adesso andremo ad accendere la macchina prima di tutto e noi sappiamo benissimo che bisogna avere in folle, ecco, e girare la chiave Ale, eh, abbiamo acceso la nostra chiara panda gialla e adesso bisogna partire, qua ci sono un pochino di problemi Non voglio sentire il motore che va su di gisli Bravissimo, perfetta la partenza Piano, 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 piano Un po' la partenza, sul resto ci sono, capito? No, sgasare così, contemporaneamente accelerato, piano, vai, vai, perfetto, bravissimo, hai fatto una curva in seconda e non hai spento il motore Ok Benissimo, così, adesso tieni la macchina così e giri, cominci a girare Quando arrivi quasi in fondo rallenti col freno e giri, rallenta col freno, così gira adesso Bravo, quando sei a metà curva accelera Bravissimo Federico No Qua ho rischiato un incidente e mi son pure salvato, capito? E beh, andavi contro il muro, povera panda E niente, e niente, e niente, e niente, e niente E niente ancora, eh, ho premuto troppo poco Ok, vediamo E girare Ok Così, bravissimo Per cortesia si feffi Oh Godo Ci siamo Ma sei fermo o stai andando? Sono fermo, però Adesso bisogna rimettere in uno Per ripartire sempre in uno Però prima sono partito in seconda Bravo e non è spento il motore Ottimo